Professor Pelliccioni, in chirurgia endodontica in quali aspetti possono essere migliorativi i cementi TEC BioSealer? Beh, dobbiamo premettere che i cementi TEC BioSealer sono dei cementi tetrasilicati che hanno una stretta parentela con il capostipite di questo genere di cementi usato in chirurgia endodontica che è l'MTA di Torabinejad. Questo genere di cementi è già molto buono e ha dato dei risultati molto validi nella chirurgia endodontica permettendo di risolvere casi molto complessi. Attualmente i TEC BioSealer, in particolare il Rootend che viene consigliato per la chirurgia endodontica, risolve alcune delle problematiche intrinseche dell'MTA come la maneggevolezza che era abbastanza problematica e il tempo di indurimento apportando un miglioramento che in chirurgia mi sono trovato ad apprezzare in questo periodo.